Siamo arrivati a destinazione, siamo a San Francesino! Io ho deciso che San Francisco è la città mia preferita del mondo di sempre, tu cosa ne pensi? È una bellissima giornata oggi a San Francisco, siamo all'Alcatraz! Siamo arrivati a presto a presto a presto a presto! Siamo arrivati a presto a presto a presto a presto! Siamo arrivati a presto a presto a presto a presto a presto! E adesso per finire in bellezza a Luna Park si vanno gli elicotteri! Siamo arrivati a presto a presto a presto! Siamo arrivati a presto 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 Grazie per la visione